Mi invito a presentarvi, sento il cannele bianco, sento la scritta sui bianco, mi prendo la calestra. Lei vuole fare la stampetta? Ecco, allora, se mangiate ad andare la sette, c'è un signore per lì. Andragio, fatti vedere, Andragio, Andragio, ecco, quel signore è lì con il mare di Stato, vedete un signore lì. Allora, mi sono distratturato, non sto andando, se ti metti a un minuto e mezzo, vai, vai che ce la fate. Allora, attenzione ai piedi, perché non va bene, perché tu sposti la riga così, perfetto, quindi, entro indietro. Ok. Siamo a un minuto, manca un minuto, dai, dai che mi vedo carichi, dai. Bravissima, quella è il mare, ma ti sei forse l'altra. Quella è buona, quella è buona, quella è buona. Siamo a quasi 20 secondi, 20 secondi adesso, vai l'ultima, l'ultima, dai, dai veloci, dai. Siamo a 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Complimenti, complimenti, complimenti. Allora, vorrei sentire, quanto sono, infatti, mi smagliate bagnate 2024, mi imprena e mi devono essere. Allora, ti concedo in terza questo segno, fatti fare un applauso del giro. Ciao! Ciao! Grazie a tutti 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 1-1 Grazie a tutti 1-1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti